ciao ragazzi e benvenuti in questo video siamo sempre con luciano saluta luciano ok per giocare a funky friday un gioco di fnf lo conoscete no allora allora ragazzi oggi questo video non faremo solo battaglia rap perché sarebbe noioso noioso beh in questo video resteremo luciano e poi fare e poi però faremo però faremo anche un'altra cosa ovvero beh noi faremo che a ogni canzone dovremmo vestirci del personaggio adatto tipo non so se facciamo witty dobbiamo vestirci da witty e ora vi direte come avete così tanti robux no perché su funky friday perché non lo sapesse c'è questa funzione che vi permette di fare un outfit allora chiedete a lui robux stanguilli allora luciano da quale canzone vogliamo inserci ok aspetta ok ragazzi eccomi ok andiamo aspettate allora aspettate ragazzi faccio cosa c'è perché allora come si chiamava la prima canzone di witty sono stupido si chiamava lo fight grazie è facilissimo eccoci ragazzi questo è il bel grano di julian vabbè 3 2 1 go no ragazzi farò un po' schifo perché di solito voglio fare un video uso il telefono è normale in realtà così il video dovrebbe 3 1 non facciamo venuta witty no se no il video dovrebbe essere bup vuole di leggere la roba c'è amore Oh, oddio Me la sto provando Quando mi sei gatto? Come così? Ragazzi, io ne ho solito giocare con dischi E proprio perché io non l'avessi capito io sono Ron Perché la mia schiena è Ron E anche il microfono di Bob Avranno capito la mia schiena Beh, è normale, l'abbiamo detto tre volte Oddio, addio santo, il personaggio Personaggio mi si muove da sola Aspettate Mi sei pagato il gioco Aspetta Cosa? Facciamo pure ballistico No, allora comunque Dovremmo farlo ballistico o no? Vediamo Tu che vorresti fare adesso? Magari tocca a tu Sì, è dal mare che tocca a me Sicuramente questo non lo saprai che Ok, allora, sono pronto Questo è Bob Questo è Bob La nebo Ragazzi picchiando Alcuni unsfit ragazzi io li ho già fatti Quindi Ron Ora ci fingeremo Io ora mi fingerò Ron Anzi, io sono Ron Sono anche uno dei suoi migliori amici Ma ci scrivendo Non mi stavo facendo Ron Non mi sono preoccupato Anzi, io mi sono preoccupato Vabbè, quanto lagga Hai messo? Ok, però Ho trovato, ho trovato 3, 2, 1, 4 Questo è scrittivatore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete la differenza tra me e ron? Non si vede proprio... Che canzone mettiamo di capi? Che ne è tante? Stiamo mettendo... Stiamo a mettere 20 euro fatti. Le canzone è più difficile. Mi chiam vada giù? Sì, si sembra lì. oggi sono molto FNF uso perché ho fatto zero mesi di ore fusto andiamo 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 4, 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 1, go 5, 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 1, go 6, 1, go 6, 1, go 5, 1, go 6, 1, go 5, 1, go 5, 1, go 6, 1, go Ah, forse. Forse, mi sono le nove. Vedi? No, è vero. Un attimo voglio provare questa notte. Se metto la trasparenza delle note al massimo. Eh, vabbè. Eh, vabbè, orala. Vediamo, Luciano, cosa ha fatto? Mi sono messo le note trasparenze che non si vedono, quindi adesso sarà un musical memory. Beh, giusto. Beh, già non mori qua. Non si può morire. Non so. Adesso si accende quella musical memory. 3, 2, 1, done! Che io so che funzionava. Cioè, se gioco la scuola, non funziona. Ah. Oddio, non ciò! Allora. Allora, voi non lo vedete ragazzi, ma io qua vedo Luciano che non ha le note. Non lo vedo. Non lo so vedo. Allora. Allora. A presto Ragazzi è bellissimo Si vede che il luciano è facilissimo Mi sa che hai vinto Si ha vinto Capito Hai vinto con una canzone che non vedevo le nostre Ma se hai vinto con una canzone che non vedevo le nostre No tu le vedevi le nostre Pi 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 Significa pi 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 Non lo so Vediamo se Antonio Marius 1 against 10-0-0-9-9 Ora è il tuo turno Ora è il tuo turno Eh? È il tuo turno Ah, lo fa a me? Eh, si Ora ti faccio Ma che è Allora Non lo so Grito Eccolo Aspetta Non mi segui più a Geron Eccolo qua il personaggio Chi è? Un U-ma-no Non esiste Lui è Un U-ma-no Ok L'hai capito la battuta? Sì, l'ho capito Aspetta Aspettate ragazzi Non mi Aspettate ragazzi Non mi si cambia skin Devo un attimo uscirò gioco Mi deve fare E poi Eccolo qua Ora sono bello Sì, ora sono bello Ok Allora Vieni Aspetta Aspetta Ti è piaciuto prima Bunzo Ti è piaciuto prima Bunzo Eh? Ti è piaciuto prima Bunzo Sì, però ho sofferto Quindi no Allora Adesso Sto a me Che canzone? Burning Hell Perciò magari Dovente che non te blu Oddio Un'altra volta Burning Hell Ho capito Però se sono Sto a me Ma questa lancina Ci sta anche per Ron Ci sta per Ron? Oh no Questa lancina Non lo so perché Perché? Allora A posto di chissà Ci dovrebbe essere Bob Burger Burger In the hot dog bun Vabbè Vabbè I'abbanno Morto Non è neanche Inizia la canzone Guarda come è fatto bene Il mio sans Reptile Adesso ti ammazzo Unica sempre Unice 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 Non so ne venguta questa canzone mi piace ah 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 Perchè esiste questa canzone? Luciano sei bello Questo video è bellissimo ragazzi Luciano dopo questo sto benissimo No sono morto per un imparso Bene è il mio turno E' il mio turno Eccomi Che ti sei messo? Non ne è visto Oh mio dio ma tu non dovresti andare a testa? Aspetta Mi cambia l'animazione di Ghiboogie E' normale Quindi due Ghiboogie E' questo qua e questo Ghiboogie Quello dell'animazione Ghiboogie Ragazzi noi non siamo ubriaci Ecco allora ho messo così Luciano mi vedrà Però io no Perchè ho messo in prima persona E quindi io ce l'ho l'animazione E quindi io ce l'ho l'imun Oggi E video Un video Un video 85 Perché è buono aspetta ma la momb games dice mob games ha fatto la mod in tema pj elio oppure mob games per far sapere il creatore no era famosissimo giocanale ero i... tipo c'è n'escritti no, nei video, nei tre eh sì, nove sta cadendo il celebro non no 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 mia amica ghiwaghi nushirabate io sono da raggiwaghi io sono dissi di mangio ma salia picchia addio salia addio Aspetta Non riesco più a muo Ok ora si Allora Il tuo turno Vediamo Non ho qui Bene Però ora sarò Aiutato La mia amico Si Agui what Eh What the hell Should we want That's a Neopold That's how you want Right there Oh my god What the hell Should we want That's how we want Hey broskies Do you see that That's how you want That's how we want I can't I can't I can't Sto correndo Sto correndo No sto correndo 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 vai Aghi siamo in treno non vuoi fare nulla tu Aghi forza dobbiamo farcela tutti siamo in treno vuoi fare nulla tu stupido cactus bellissima questa musica poi il cactus non fa movimenti ma la mia testa ferma perchè come il cactus ah mi vorrei uno però in stile Aghi wagi magari stile... ma il cactus normale quando costa no no lo so ma credevo si mi sono andato a mettere un po' di ma se non ci sono i cittadini e se non ci sono i cittadini ma è un po' di rinforza ma è un po' di rinforza ma è un po' di rinforza Allora, spero che vi sia aiuto E Luciano saluta Ciao E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ok, Luciano ha chiamato un lesbio Anitanto deve essere arrestato Ciao